Eccoci qui, benvenuti alla chiamata numero due! Compiti per casa! La cosa che viene dal cielo a rovinare le nostre vacanze è qui. Compiti per casa. E non solo le vacanze dei figli, ma anche le vacanze dei genitori. Le nostre vacanze quando eravamo bambini, quindi i compiti per casa. Il sacro, graal. Dell'illusione, strastezza e dovere. Quindi, tutti i punti di vista che avete comprato da chiunque riguardo ai compiti per casa. Che significa? Dai nostri insegnanti, compagni di scuola, famiglia, amici, gruppo di pare di ogni tipo. Distruggiamo, iscriviamo e rispediamo tutto al mittente. Giusto, sbagliato bene e male, papà, tutti i nuovi shorts by spavats e pions. Cerco di non usare la frase di polizia, però sta arrivando. E ho ricercato l'etimologia dei compiti per casa perché tante volte la parola ha la radice che evoca qualcosa di specifico. Quindi il compiti per casa viene dal latino e ha due significati. Uno è la calcolazione e significava qualsiasi attività di cui potessi calcolare la lunghezza. Quanto tempo consumerà nella tua vita? Quindi uno significa calcolazione e due significa qualcosa, il completamento, qualcosa che porti alla fine. Questo è il significato di compiti per casa. Quindi non è solo per i bambini, è qualsiasi cosa che ci impegniamo a completare nella giornata. Quindi potrebbe essere qualcosa per il nostro lavoro, e-mail, tasse, qualsiasi cosa sia. Quindi una cosa che vorrei menzionare, i nostri punti di vista creano la nostra realtà. Quindi ovunque abbiamo comprato che un impegno o una responsabilità che prendiamo, che abbiamo preso, è pesante, è noiosa, consuma del tempo, è difficile. Che cosa ci vorrebbe per, prima di tutto, rispedire tutto, chiunque tu abbia imparato quel comportamento, direi sì, no grazie, avrò la mia realtà con quello. E chiedere qual è la mia realtà con il lavoro, i compiti per casa. Abbiamo iniziato a guardare, usare gli strumenti di Access Consciousness, è un modo per noi, per rimpostare il nostro passato. E i nostri punti solidi, sui quali abbiamo basato la nostra realtà, è il negozio per la nostra realtà. Scegliere quello che funziona per noi, oltre a qualsiasi solidità, oltre all'ospettativa, tutto quello che abbiamo comprato. Quindi ti dirò, super brevemente, ho fatto scuola a casa per i miei bambini negli ultimi tre anni, perché non avevano nessun compito per casa. E quello che ho visto è stato un ruolo cruciale, che ha giocato per noi, di spendere il tempo senza l'obbligo di fare qualcosa. Essere, finire gli esercizi, leggere qualcosa, era del tempo libro, per scegliere qualsiasi cosa tua sia incline a fare senza dover, nel dover fare niente. Quindi le vacanze, le vacanze d'estive, può essere una possibilità per noi per rimpostare il nostro passato e darci a tutti noi, genitori, e noi anche come genitori, come figli, i nostri figli, la possibilità di avere la loro stessa realtà. E accompagnarli nello sceglierlo, ed essere tipo, ok, quindi, come sarà questo? Come funzionerà per te? Che cosa possiamo sperimentare ed esplorare che mai abbiamo sperimentato e esplorato prima? Che cosa potrebbe renderlo divertente? Quanto velocemente possiamo fare le cose? Cos'altro? Che cosa è di tuo interesse? E' un po' un lavoro di etichetta, ma oltre a quello è l'educazione. È l'educazione? Un panorama di educazione che si apre prima dei nostri occhi, sulla base di domande, anziché risposte, sulla base di possibilità e curiosità, anziché conclusioni, la risposta giusta e tutti i punti di vista fissi che rendono così pesante per essere interessati in qualsiasi cosa. Una cosa che ho scoperto, a 34 anni, l'anno scorso, mi piace la matematica. Ho fatto tutto il mio viaggio accademico, pensando che la matematica fosse difficile, è molto difficile. E io non ero una ragazza che faceva la matematica e i numeri erano così follemente complicati e non potevo usarli per cose pratiche. Quindi era una partita di tempo e attraverso i miei figli rimpostare tutta la conversazione scolastica e tutto l'imprinting scolastico a cui ero stata esposta. Loro avevano questo entusiasmo selvaggio attorno alla matematica, l'algebra e la geometria. Che per me era tipo, la geometria, ti piace? Sei felice? Loro, sì, perché gli angoli, le aree e non so cosa, le espressioni, con le lettere, wow! È come un codice cripto. E ho detto, ok, però come sarebbe se potessimo darci, lascia la possibilità di educare noi stessi? E in un modo supportare e potenziare noi stessi nel modo in cui avremmo dovuto essere educati e supportati. Quindi anziché fare i compiti per casa, perché dico io così, anziché stare nella domanda di che cosa funzionerà, qual è la mia realtà, come lo possiamo far accadere e semplicemente iniziare a giocare con cos'altro possibile, anziché l'obbligo. Perché siamo onesti, a nessuno piace l'obbligo, specialmente se non è una scelta attiva. Che stai facendo? Andare a scuola è una richiesta dalla maggior parte dei sistemi, nella maggior parte delle nazioni, quindi tu devi andare a scuola. Non è una scelta attiva a cui i figli sono presentati, ma tu devi scegliere. A una certa età tu andrai a scegliere in quale scuola superiore andrai. Ma prima non è raro, tanti umanoidi i genitori lo fanno, però è raro che i genitori dicono dove vuoi andare, in che cosa sei interessato, perché uno dei punti di vista principali, potete considerare di rinunciarci e che i genitori conoscono meglio le cose, hanno più esperienze e quindi sanno la cosa migliore per i nostri figli. Quindi mi chiedo se qualcuno di voi, a chiunque di voi, piaccia essere detto cosa fare. A me non piace, mai mi è piaciuto e immagino che neanche i figli piaccia. Quindi quale scelta attiva possiamo instillare per i nostri figli nei nostri universi che farebbe in modo che loro si impegnassero con l'imparare qualsiasi cosa in cui siano interessati e avremo un altro Zoom sull'educazione, quindi non solo competi per casa o l'accademica, ma sarà un po' più esteso. Però sì, quella è stata la mia, non lo so, intro sulla conversazione. C'è ovviamente tanto di più, però vorrei semplicemente considerare come i nostri punti di vista creano la nostra realtà. Quindi quando diciamo gli compiti fanno schifo, va bene. Tutti l'abbiamo detto, no? Anch'io sicuramente come figlio. Non sono in vacanza, mi danno compiti per casa, ma che diamine. Lavorava come un incantesimo, quindi quando tu dici odio quello, che cosa crei? Cioè, crei qualcosa? Chiedo, beh, se l'ho odiato, lo rendiamo una realtà. Quindi? È come se diciamo odio questo, non mi piace. È come se l'universo ci sta dietro e dice ok, così sia. Rendiamolo pesante, noioso. Quindi, ovunque avete creato pesantezza, non l'avete riconosciuto, possiamo distruggere e screare. Giusto, sbagliate bene e male il pop-pot, di nove shorts, poi spavate e piazze. Qual è il punto di vista differente? Puoi abbracciare, che lo renderebbe leggero, gioioso, veloce. Intrigante. Monello. Tutto quello che è, giusto o sbagliato bene e male il pop-pot, di nove shorts, poi spavate e piazze. Quindi, ci sono domande? L'esperienza personale? Che volete portare su? Con i compiti per casa? Può essere la vostra esperienza personale, come bambini o qualsiasi situazione con i tuoi figli. Perché parliamo del essere genitori, essere educati. Quindi è una conversazione un po' più larga. L'argomento già è così pesante che nessuno sta parlando. Comprati per casa. E questa è un'altra domanda. Quanti proiezioni hai comprato? Che non erano neanche i tuoi punti di vista fin dall'inizio. Una cosa che io faccio, in tutto, è una cosa che ho insegnato i miei figli, in realtà, tanti anni fa. Quando ti approccio a qualsiasi cosa, distruggi e screa. Ovvero, distruggi tutto quello che è stato creato solo a base di un punto di vista limitato. E screa significa portare via la mia energia creativa, generativa. Quindi, ogni volta che approccio qualsiasi cosa, chiedo tutte le proiezioni su questa cosa. Tutte le decisioni che ho già preso su questa cosa. Ho le aspettative su questa cosa e quello che significa. Che non significa dinte di me. E tutte le computazioni su questa cosa. Distruggi e screa tutto. Gli sto sbagliato bene e male, poppot, tutti i nuovi shorts, poi spavosi, pianza. E quello permette a te di approcciarti a qualsiasi cosa. Con gli occhi freschi e curiosità. Nel senso di possibilità, anziché conclusione. Proiezioni sono salvagge. Abbiamo... Siamo bombardati dalle proiezioni, tutto attorno a noi. Quindi, Anna dice, puoi dire qualcosa sui compiti per casa? E procrastinare? E mi piace perché ieri ho avuto una conversazione con la mamma e ha detto mio figlio dice che ha iniziato a fare i compiti per casa al primo di luglio perché richiedeva del tempo per semplicemente risettarsi e tornare un po' indietro in sé. E ora è il primo agosto perché ha bisogno di più tempo per sentirsi meglio. Quindi, ovunque, noi procrastiniamo per dimostrare quanto veloci e magici possiamo essere facendo le cose in molto poco tempo. Distruggiamo e scriviamo. Tutto sbagliato bene o male, ho proposto una risposta per la spavozza e più ansia. Ed è... Questa è una scelta. È una scelta attiva che un figlio, noi come figli, abbiamo. Quindi, aspettare fino all'ultimo momento io l'ho fatto per il mio viaggio accademico. È sempre stato da 20 di agosto e in Italia la scuola inizia all'inizio di settembre. 20 di agosto dicevo, ok, devo leggere sei libri e fare tantissimi capitoli di qualsiasi cosa sia la materia. E ha funzionato per me. In realtà, ha funzionato per tutti i test che ho fatto anche alla scuola superiore. Avevo dei voti alti, però studiavo qualche giorno prima. Ed è ancora per me questa cosa perché io mi ricordo comunque le cose. Quindi... Come sarebbe se non fosse sbagliato? O forse è solo una scelta che i figli hanno disponibile? E quale modello di sostenibilità possiamo essere? E che possiamo allenarci, allenare con noi stessi negli ultimi anni? Ho iniziato a implementare piano piano delle piccole, delle conversazioni anziché dimostrare che potessi farlo? In un tempo concentrato scelgo qualcosa di differente. E a volte capisco che devi fare l'esperienza estrema per sapere che questa è una di quelle cose ma che avete delle altre scelte disponibili. Quindi questa è un'opzione. Non so, capisco che è una scelta proprio figa per me. Non ho mai rovinato le mie vacanze fino all'ultimo momento. E so che non è sostenibile. Però in realtà ha funzionato davvero per me il mio corpo. Non ero stanca. Ero semplicemente Adesso rovinerò l'ultima settimana delle vacanze e farò cadere tutto quanto lì. In realtà i corpiti che mi piacevano li spargevo nelle vacanze. Io andavo a una scuola francese dovevo leggere tanti libri. Sei o sette libri da leggere durante l'estate. Io li amavo. Volevo leggerne ancora di più. Li spargevo durante l'estate. E dicevo sì. Però tipo la geometria non era la mia cosa. E lo facevo all'ultimo momento. Quindi sì. E in realtà come potenziamo i nostri figli a sapere che sanno? Quindi che cosa sai tu? Che cosa funziona per te? All'ultimo minuto funziona? Ok, vai! E rendilo molto chiaro se sei disponibile o no ad aiutare. Come per esempio biologia. Mia mamma era disponibile a studiare per me. Con me era un dottore ed era molto brava a spiegare. Quindi l'ho chiesto. dicevo, avevo fiducia che non studierò fino a due giorni prima del test. Mi puoi aiutare? E io mamma ti aiuterò. E così fu. Spendevamo tempo nel letto, leggiamo libri insieme. Poi prendevo un voto un A un A un 10 ed era grandioso in realtà. Quanto sono anche intelligenti i bambini come scelta possiamo vederla come non sostenibile però come sarebbe se funzionasse per loro. Quindi tutto quello che questo è è stato sbagliato bene e male per pocci nel short space pavos e bianzo. Spero che di aver risposto un po' rispetto a questo. Oh mio Dio siamo arrivati alla fine del tempo insieme. Ho parlato di fila per 20 minuti. Non importa. Succede. Quindi grazie, grazie, grazie mille per oggi. Compiti per casa. La bestia selvaggia delle vacanze di cui abbiamo parlato. Spero ci saranno delle domande. Spero ci saranno delle domande che potete usare per rendere questa cosa un po' più leggera e meno pesante e solita. Ed è così. Non so se Iesim e Patricia hanno delle domande. State bene? Sono felici? Dicono ok, ho finito. Grazie mille. Ci vediamo al prossimo lunedì. Ciao.